partiti a centropista Shara Eldor veloce al comando avendo all'interno Super Emma che ora passa in vantaggio al suo interno poi quindi Shara Eldor a centropista con a largo Brigant Regor in coda Folletto e Muldon Super Emma ha preso vantaggio dopo metà gara e conduce nei confronti di Brigant Regor e di Shara Eldor poi Muldon e Folletto siamo a 250 dal palo con Super Emma in leggero vantaggio in seguita all'esterno da Shara Eldor nel tratto finale Super Emma in vantaggio mantiene la meglio e nel tratto finale Super Emma si impone su Shara Eldor Muldon e Folletto andiamo a rivedere le immagini che ci ripropone la regia con il numero due dello schieramento Super Emma con in sella Carletto Fiocchi a bersaglio in questa prima corsa di Agnano al posto d'onore il quattro di Shara Eldor quindi due quattro il probabile e ufficioso arrivo della prima corsa di Agnano questa è la prima corsa di Agnano al posto di d'onore il quattro di S runners di Guglielmo